Ciao e bentrovati su Macra Aris, sono Aristide Lappa. Vorrei presentarti in questo video una bozza di app che ho realizzato con Power Apps, un'app che permette di archiviare i libri della mia libreria. Sono libri che non uso più e che vorrei mettere negli scatoloni, ma vorrei anche sapere quali libri sto inserendo negli scatoloni e quindi eventualmente andargli a riprendere in futuro. Questa app mi ha permesso di ripassare una serie di funzionalità in Power Apps che adesso andiamo a vedere. Abbiamo qui una ricerca di libri che possiamo fare inserendo semplicemente il codice a bar del libro, il codice ISBN, oppure possiamo ricercare direttamente con il lettore di barcode. Quindi se io vado ad esempio su cerca con scan, si attiverà la telecamera, posso andare a prendere questo codice a bar e il risultato e qui non abbiamo niente perché questo libro non è ancora censito all'interno di questa app. Posso andare a fare un refresh qui per avere di nuovo tutti gli elementi e eventualmente posso andare qui a cercare con un codice a bar, posso inserire 914 e questo mi farà vedere il risultato di questo libro. Qui abbiamo diversi libri che hanno 914 al loro interno motivo per il quale vediamo questi libri. Posso fare di nuovo il reset qui per vedere tutti i libri che ho già scannerizzato e l'obiettivo qui era per me di catturare la prima foto di copertina e l'ultima e qui quindi vediamo la prima. Per inserire un nuovo libro in questo archivio cosa faccio? Vado su questo più, si apre questa pagina dove ho utilizzato un modulo e diverse altre funzionalità possiamo scansionare, quindi scansionare così scansioniamo il libro, bisogna posizionarlo correttamente. Una volta che abbiamo scansionato il libro abbiamo qui il codice ISBN, il codice a bar del libro possiamo inserire qui lo scatolone all'interno del quale andremo a riporre questo libro, inserisco ad esempio D e qui possiamo caricare la prima foto di copertina, quindi andiamo a caricare la prima foto di copertina come allegati, quindi allega file, prendi una foto, prendiamo questo bel libro che sicuramente non sarà da archiviare perché è sempre di attualità, ok, ora andiamo ad inserire un'altra foto, questa è l'ultima di copertina e qui vediamo che abbiamo caricato una su due, inseriamo una seconda, quella dietro, ok, quando abbiamo inserito tutti gli elementi a questo punto vediamo il pulsante salva che appare e possiamo andare avanti e salvare questo libro all'interno dell'elenco di SharePoint perché in questo caso abbiamo utilizzato SharePoint, qui abbiamo il successo della registrazione, ora possiamo andare a cercare questo libro che abbiamo appena archiviato, inseriamo 086, oppure molto più semplice andiamo a far leva sulla funzionalità cerca con scan, clicchiamo cerca con scan, andiamo a prendere il codice a barre, questo ce lo rileva e qui abbiamo il nostro libro che abbiamo appena salvato, vogliamo vedere i dettagli possiamo cliccare qui e qui abbiamo sia la foto di prima copertina che l'ultima, è stato molto utile realizzare questa app perché ho ripassato una serie di funzionalità che non avevo utilizzato di recenti ed è stato molto utile, spero che potrò fare una demo per far vedere come realizzare un'app del genere e come gestire i diversi controlli. Quando usciamo da qui ritorniamo alla raccolta, possiamo andare a resettare il controllo e qui abbiamo tutti gli elementi, ti chiederai a che cosa servono queste case linee, nello sviluppare questa app perché è nata proprio dall'esigenza di andare ad archiviare molto velocemente i libri che avevo, poi mi sono accorto che alcune copertine, alcune foto non venivano salvate, nonostante si faceva foto della prima e la seconda in alcuni casi andava ad inserire l'ultima pagina di copertina come la prima. Quindi per ovviare a questo problema, visto che era già stato fatto e non potevo andare a riprendere il lavoro già fatto, è nata quindi l'esigenza di andare a marcare quei libri per i quali le foto non sono corrette e poi utilizzare Power Automate per andare a rinominare questi queste foto e fare in modo che venissero lette in modo corretto e anche questo potrà farlo oggetto di un'altra demo. Ti ringrazio per l'attenzione. Ah, prima di salutarti, quali sono le funzionalità che sono state utilizzate qui? Abbiamo il lettore di codice a bare, abbiamo diverse funzionalità di filtri combinati e qui quando andiamo qui per fare l'inserimento abbiamo qui all'interno la possibilità della gestione dei controlli anche condizionati nel senso che se non abbiamo il codice a bare oppure se non riusciamo a rilevare il codice a bare possiamo attivare questa casella di title andando su questo pulsante attiva disattiva a questo punto scompare il pulsante scansione e appare quindi o viene attivato il campo di testo per poter inserire all'interno il relativo valore. Come qui ti accorgerai c'è una piccola imperfezione che andrò a sistemare perché quando andiamo qui dietro e clicchiamo sul più per aggiungere un altro elemento era solo perché non si è ragionato perché qui dobbiamo vedere zero come abbiamo visto attualmente mentre invece se andiamo a selezionare un elemento riusciamo a visualizzarlo in questo modo. Grazie per l'attenzione grazie di seguirci se questo video è stato utile e vorreste avere una demo di questa della realizzazione di questa app mettetelo nel commento e vedrò nei prossimi giorni come realizzare questa o pianificare questa demo per voi. Grazie ancora e a presto su Macraris